Tutti sappiamo che in città un'ottica moderatamente grandangolare come un 35 mm sul full frame o un 24 sulla PSC permette di affrontare e risolvere la maggior parte dei problemi di inquadratura. Spesso il 35 mm è l'unico obiettivo che porto con me quando visito una città sostituendolo con il suo equivalente da 55 mm quando lavoro in medio formato. Eccetuate le esigenze tipiche del fotografo di architettura che richiedono spesso obiettivi super grandangolari o addirittura decentrabili il fotografo di viaggi o di street trova in un grandangolo moderato lo strumento ideale ma rischia anche di ottenere immagini ripetitive ovvie già viste anche se formalmente corrette. E se provassimo ad abbandonare la cara abitudine e uscire con una focale teoricamente inadatta al tema? Che cosa succederebbe se fotografassimo in città ad esempio con un 135 mm? Quali soggetti e quali difficoltà dovremo affrontare? Per quanto riguarda i soggetti ci sono diverse possibilità. La prima è quella di concentrarsi su soggetti isolati e significativi come i lampioni, i particolari di una scultura, un elemento interessante di una facciata, un'edicola con i suoi colori, le vetrine di una via dello shopping la sera con i passanti trasformati in fantasmi. La seconda consiste nel cercare l'effetto grafico dovuto alla compressione prospettica propria delle lunghe focali, una strada in prospettiva soprattutto se fiancheggiata da portici o da architetture a schema ripetitivo. È anche possibile inquadrare uno sfondo interessante, ad esempio un'architettura o una vetrina e aspettare che ci passino davanti persone o gruppi di persone in grado di formare una composizione adeguata. E ancora, la lunga focale permette di inquadrare soggetti isolati come una ragazza in bicicletta o l'ospite insolito di una piazza del centro storico. Per quanto riguarda la messa a fuoco, la lunga focale impone di scegliere con precisione un punto di interesse per effettuare su di esso una messa a fuoco accurata. Tutto ciò che c'è davanti e dietro quel punto può essere più o meno sfocato, quanto lo sia dipende dal diaframma impostato e dalla distanza di ripresa, ma l'elemento che abbiamo individuato come soggetto deve apparire nitido senza possibilità di errore. Attenzione al micromosso, soprattutto se usiamo sensori ad elevata risoluzione, sui quali uno spostamento anche minimo è in grado di produrre effetti devastanti. In questo caso lo stabilizzatore aiuta, ma di sicuro non fa miracoli. Sui miei obiettivi io non ce l'ho, per cui devo cercare e sfruttare tutti gli appoggi che la natura o l'opera dell'uomo mi mettono a disposizione, anche se, come ripeto spesso, l'unica vera garanzia di stabilità e nitidezza è offerta dall'uso del treppiede. Quasi tutte le fotografie che vedete in questo tutorial sono state realizzate appoggiando la macchina a muretti davanzali, contenitori per rifiuti o premendola contro una colonna o contro un muro per realizzare inquadrature verticali. Alcune fotografie sono state realizzate a mano libera, ma solo in condizioni di forte luminosità, tali da assicurare tempi molto rapidi a diaframmi intermedi. Di fatto, lavorando a mano libera non sono mai sceso sotto il millesimo di secondo. Se il soggetto è in ombra, ad esempio sotto i portici, possiamo sfruttare il tempo di otturazione lungo che ne deriva per generare un effetto di mosso sulle persone che camminano, a patto che lo sfondo appaia indiscutibilmente nitido e con l'importanza di un appoggio saldo. Ricordiamoci che la nostra fotografia sarà giudicata portandola al 100% sullo schermo del computer e se apparirà poco nitida a causa del micromosso sarà impietosamente bocciata. Un altro problema che si può presentare quando si lavora con lunghe focali è quello della foschia. Tra il soggetto e lo sfondo si frappone uno spesso strato di aria e già questo provoca una diminuzione del contrasto nei piani lontani. Se poi l'aria è inquinata o se è presente una certa percentuale di umidità, lo sfondo apparirà decisamente poco nitido. Ma siamo davvero sicuri di voler eliminare la foschia? Come ci hanno insegnato i pittori veneti a partire dalla fine del Quattrocento, la perdita di saturazione dei piani lontani contribuisce a creare quell'effetto di lontananza e di tridimensionalità che una rappresentazione binimensionale come la pittura e così la fotografia non è in grado di tradurre se non con artifici grafici. La prospettiva aerea, così si chiama questo tipo di rappresentazione, appare efficace proprio quando l'uso della lunga focale schiaccia i piani prospettici avvicinando lo sfondo. In questo caso la foschia contribuisce a creare quell'effetto di lontananza che la compressione dei piani tendeva a minimizzare, senza contare l'atmosfera magica e sognante di una mattina nebbiosa. Provate, divertitevi e arrivederci al prossimo video! Grazie!